Non è possibile ragazzi miei, è un qualcosa di assurdo, ma io lo sapevo che tanto sarebbe successo, che tanto si sarebbe verificato, la peggiore delle ipotesi come sempre. Sì, ci siamo qualificati per il prossimo europeo del 2024, ma per la prima volta nella storia della nostra nazionale, ragazzi, partiamo dalla quarta fascia, la peggior fascia possibile perché c'è la suddivisione in fascia e perché so quattro, prima, seconda, terza e quarta. Dice, ma come? Da campioni d'Europa in carica fa ride solo a pensare una cosa del genere, ma perché non c'entra niente il fatto che hai vinto l'ultimo europeo. Ci sono di mezzo delle altre dinamiche e se qualcuno sta pensando, eh, sarebbe il caso che le cambiassero queste dinamiche perché è vergognoso vedere l'Italia in quarta fascia, io posso assolutamente essere d'accordo con voi, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Lo ribadisco, non era mai accaduto nella storia. L'Italia per la prima volta si qualifica ad un europeo, ragazzi, da quarti della classe alla fine, da quarta fascia, il che significa che beccheremo una squadra di terza, una squadra di seconda, ma soprattutto una squadra di prima. Sono qui per prendere in considerazione tutte le ipotesi possibili, ma preparatevi perché, raga, 100% è un prima fascia becchina top di quelle assurde. Il paradosso è che comunque ci sono delle piccole possibilità dal punto di vista statistico, comunque da quarti della classe, di prendere un girone abbordabile, ma è una cosa abbastanza remota, se non impossibile. Bentornati e ben ritrovati, ho fatto un'intro particolarmente lunga. Se volete in merito il parere del buon Fabio, vi chiedo semplicemente di lasciare mi piace su questo contenuto. Vi ricordo che lasciare mi piace non costa assolutamente nulla. Se poi siete in quella grossa fetta di utenza, circa la metà, che segue sempre i miei contenuti ma ancora non si è iscritto, mi farebbe veramente tanto tanto piacere qualora lo faceste. Se vi iscrivete e attivate la campanella, resterete sempre aggiornati su tutti i miei video e non vi perderete più nulla, grazie a chi lo farà. Due canali di calcio, ve lo ricordo, e uno extra calcio in descrizione, come sempre compariranno qui durante il video. I sorteggi ci saranno il 2 dicembre, se non ricordo male, e hashtag li voglio. Se volete il video in cui io e Fabio andiamo a fare i nostri sorteggini, come facciamo per i club, Champions League, Europa League, Conference, se volete anche quei sorteggi prima del sorteggio vero e proprio, fatecelo sapere, ribadisco, hashtag li voglio qui sotto nei commenti. Poi ci sarà modo di analizzare ulteriormente la situazione insieme al buon Fabio, quindi state tranquilli. Però ragazzi, io ieri veramente non aspettavo altro, dico ma tanto sicuro al 100% costa fortuna che ci dice, sicuramente andremo in quarta fascia. Tu vai in europeo, ma ragazzi comunque parti con una difficoltà secondo me in mane, una difficoltà veramente enorme. Cioè, se te dovesse capitare un giro di ferro per questa attuale nazionale, no? Che non è una nazionale di quelle al top dal punto di vista delle prestazioni e della sicurezza mentale, cioè tu rischi veramente di fare una figuraccia. Questo è il paradosso e la paura. Che onestamente io, poi se qualcuno dice, ma sei italiano, tifoso dell'Italia, per quello che ha vinto l'Italia, è veramente ridicolo avere attualmente paura, no? L'altro giorno io dicevo ho paura della Macedonia, ho paura dell'Ucraina. Però secondo me significa anche essere realisti. Per quanto poi io rispetti ovviamente il parere di tutti, bisogna giudicare la propria squadra, la propria nazionale per il determinato periodo storico. E io tutto ciò, tranne che certezze, in questo momento. Seppur la prospettiva di Spalletti sulla panchina, sicuramente no? Qualcosa di positivo. Il bicchiere me lo fa vedere mezzo pieno. Su questo credo che siamo tutti allineati e tutti d'accordo. Preparate perché qua ci sta veramente a mettere sei mani e capelli. Dati statistici molto particolari. Solo una volta, europei del 2000, la nazionale italiana era in terza fascia. Se non sempre o seconda o prima, quindi ribadisco, prima volta nella storia in quarta fascia. E che altro? Niente, non dico altro perché poi ripeterei cose che ho già detto. Preparatevi perché qua ragazzi io leggo le fasce e poi provate ad ipotizzare quello che potrebbe capitarci. Parto da noi, ma alcune ancora non sono certe di squadre, ma non ce ne frega niente chi sta in fascia con noi perché non le beccheremo come squadre. Ci siamo noi. La Serbia e la Svizzera, più le vincitrici degli spareggi A, B e C. Quindi non ce ne può fregare di meno. Sappiamo che Serbia e Svizzera, non le possiamo prendere. E va bene. Terza fascia. Olanda. Croazia. Ragazzi, la Croazia in terza fascia, non in seconda o in prima. Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia o Slovacchia, che dir si voglia, e Slovenia. Se guardiamo questa fascia, ragazzi, gli spauracchi peggiori secondo me sono Olanda e Croazia. Due nazionali che soprattutto ad oggi, beh non so se più l'Olanda o più la Croazia, forse leggermente più la Croazia, però sono due squadre che possono veramente metterti tanto tanto in difficoltà. Soprattutto dal punto di vista tecnico, ma anche tattico. Quindi sicuramente in terza fascia devi evita, su quante possibilità? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei squadre. Cioè hai due possibilità di beccare praticamente due da prima fascia, perché Olanda e Croazia sono da prima fascia e stanno in terza. Quindi assurdo. Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia e Slovenia, diciamo che sicuramente sono avversari più abbordabili. Se fossi qualificato, tra virgolette, in primo o in seconda fascia, sarebbe, per quanto vuoi, la terza fascia sarebbe stata probabilmente la stessa. Però sarebbe stato un altro discorso, no? Tu comunque ti piazzi in un posto in cui in prima fascia tu avresti evitato Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo e Spagna. Seppur non ce ne sarebbe stata una di queste perché ce saresti stato te, no? Cioè mettimi in prima fascia, no? Dici, eh sì, che mi capita all'Olanda in terza fascia? Però comunque ho evitato una delle prime fasce. Non so se il discorso è abbastanza semplice e chiaro. Quindi, vabbè, abbastanza semplice. Probabilmente ci capiterà una tra Olanda e Croazia. Mettetevi, eh, salite le mani e i capelli. Anche, per chi ce l'ha ancora, l'anima in pace perché probabilmente con sta fortuna che ci avevo beccheremo una di quelle. Seconda fascia. Albania, Austria, Danimarca, Romania, Ungheria e Turchia. Qualcuno potrebbe dire vabbè ma è una seconda fascia abbordabile, no? Non ci stanno top dei top. E so anche d'accordo con voi. Però secondo me sono tutti piccoli spauracchi, ragazzi. Sono tutte squadre. Forse la Turchia, l'Austria e la Danimarca possono essere quelle più insidiose, quelle che possono metterci un po' più in difficoltà. Però so squadre che non me fanno sta tranquillo. Assolutamente, ragazzi. Perché poi sappiamo tutti com'è il format di un europeo, no? Cioè, in tutti i format in realtà, che sia europeo che sia mondiale, servono risultati in poche partite. Perché la fase iniziale dell'europeo, così come quella del mondiale, insomma, sono poche le partite, no? Devi essere bravo sin da subito a far punti. E poi ovviamente, ragazzi, qua preoccupatissimo è dire poco. Seppur poi ci sono delle nazionali che sicuramente sono più abbordabili di altre, però Belgio, l'ho detto prima, Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo e Spagna. Io tra queste ad oggi vorrei evitare assolutamente la Francia, assolutamente l'Inghilterra, assolutamente la Spagna. Ma sono tre possibilità su sei, quindi c'è il 50% di beccarne almeno una di queste. Non so lo statistico, non fate caso ai dati statistici casuali che sto dando, però su sei squadre sono tre. Il 50% delle squadre, ragazzi, sono veramente impossibili, difficilissime da affrontare ed è altamente probabile. Ecco, questo è un dato oggettivo che una di queste potessi. È statisticamente provato che è facile che prendi una di queste. Ne puoi via una sola, però capite bene che sta cosa non mi fa stare tranquillo. Diciamo che il Portogallo, il Belgio e l'attuale Germania, che comunque è una nazionale che, diciamo, non sta passando forse uno dei suoi migliori momenti in assoluto. Quindi, pur sempre la Germania, capite bene che potrebbe essere la Germania al momento proprio per rilanciarsi, no? Definitivamente e di prepotenza. Quindi, io sto su un articolo di Sky Sport qua, da delle possibilità, delle probabilità, dice c'è un'ipotesi di un girone che sarebbe, no? De ferro, de più. Forse è il peggiore in assoluto. Inghilterra, Turchia, Olanda e Italia. Cioè, capite bene che per quanto a Turchia non può essere un problema se sei l'Italia, devi vincere, ma Inghilterra e Olanda con l'Italia. E voi capite bene, non è che passano tutte le squadre del girone, sarebbe veramente un girone, non dico impossibile, ma comunque difficilissimo. Poi se giochi da Italia c'è la possibilità, pure ad oggi di passare da prima, vedo difficile, no? Però comunque di passare alla fase successiva. Seconda ipotesi, il girone di ferro, questa secondo me è pure peggio. Onestamente, mocca la guardo bene. Francia, molto peggio. Francia, Danimarca, Croazia, Italia. Cioè, questa proprio, se dice statisticamente è difficile che te esce proprio questa, ma se te esce che fai? Lascia perdere, ci non te presenta proprio, quasi quasi, no? Vabbè, siamo in Italia e ci dobbiamo presentare, però il rischio di far male è pesante, eh? Insomma, Francia, Danimarca, Croazia e Italia. Miglior girone possibile, ci sono due ipotesi, quindi pure, ma ragazzi, ma storicamente a noi quando ci ha detto fortuna, quando ci ha detto bene? Cioè, questi sono gironi abbordabili, nonostante sei in quarta fascia, ma quante, ribadisco, quante possibilità ci stanno con vecchi? Nessuna. Sono veramente ridotte al, al minimo possibile. Allora c'è Portogallo, come prima fascia. Albania, abbordabile. Slovenia, abbordabile. E Italia, cioè qua praticamente la quarta fascia diventi la seconda forza e te puoi permettere di, posso passare da seconda. Cioè, è come se veramente stessi in seconda fascia o in prima fascia, paradossalmente, no? Però, ribadisco, ma quante possibilità ci stanno? Seconda l'uso di dita, te la mano. Seconda ipotesi, secondo girone migliore possibile, c'è Belgio, Romania, Repubblica cieca e Italia. Anche in questo caso, ragazzi, mi verrebbe da dire, per quanto il Belgio, no, è una squadra fortissima, ma te la giochi alla pari, o comunque, no, pure se si mettono davanti loro, alla fine è una situazione fattibile, Romania e Repubblica cieca, ragazzi, non le possiamo considerare per quanto stanno in fasce superiori a noi, superiori a noi, no? Romania e Repubblica cieca non sono superiori all'Italia. Ricordate queste parole, quante possibilità ci stanno di beccare uno destituto gironi? Pochissime. Qualcuno potrebbe dire, ma ci stanno poche possibilità di beccare anche quelli più difficili dei gironi, potrebbe capitare una via dei mezzo, e so anche d'accordo con voi. Però, ragazzi, ribadisco, lo stare in quarta fascia non mi fa stare assolutamente tranquillo. Proviamo a tipotizzare qui sotto nei commenti, chi beccheremo, secondo voi, poi ne riparleremo in un contenuto dedicato a suo tempo. Io vi ringrazio per la visione di questo contenuto, c'è un po' di tempo ancora per respirare qualche giorno, poi ci saranno sti sorteggi, poi ovviamente l'europeo neanche ci sarà dopo domani, no? Ci sarà qualche mese di preparazione, però insomma, uno comincia a pensare, la situazione ad oggi non è proprio delle più rose, ecco. Alla prossima, ragazzi, becciamo! Grazie a tutti!